e riniziamo con due circuitini nuovi prendendo i pesi quindi teniamo tutti e due i pesi vado fuori con la mia sinistra spingo dalle spalle, uno, due, torno quindi due pugni, if you don't want to use the dumbbells you can also do it without but if you do light dumbbells let's do it let's go, quindi fuori bene in lateral lunge bicipiti, pugno destra, pugno sinistra, torno ancora, back, out, push, push and again non so se si vede bene dallo schermo ma io mi faccio una x con i pugni avanti e un po' diagonale ancora push, front, front up nice, a little bit more there and up a little bit more down, one knees bent piego solo una gamba, l'altra è dritta torno forte l'ultimi fuori and up very good now we're going with chest level quindi siamo un po' piegati ginocchia, knees slightly bent chest slightly down and simple tricep extension quindi indietro spingo entrambi i pesetti hammer hold so the dumbbells are vertical when I hold them next to my chest good, keep going nice little bit more so you see as we progress this lesson the dumbbells one are really dumbbells and the non dumbbells will become a little bit more cardio ok gli ultimi 3 2 1 stop posso riposarmi un attimo sciogliendo un po' le braccia e poi le riprendiamo we're gonna go back instead of opening left we open right or the opposite quindi cambiamo la gamba che va fuori in a fondo laterale parto giù bene guardo sempre in avanti push push back that's it again there push push and back be careful this leg is straight yeah quindi bene tenere una gamba dritta l'altra si piega c c ancora un pochino down c c and up last last two gli ultimi due facciamo uno uno su last one l'ultimo c c and up very good just loosen up a little bit like this e ci rimettiamo in posizione pancia dentro very important to have your belly button in chest level and push back let's go continuo 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 e tre due uno and stop very nice so the second now will be without the dumbbell quindi adesso lasciamo i pesetti lavoriamo solo senza pesi only body weight we're gonna do the skaters incrocio and then we're gonna go down on the floor to a kind of push up plank dopo ve lo spiego una cosa nuova pronti, apriamo incrocio dietro, bene saltello, incrocio apro e incrocio bene posso farlo un po' più complicato, vado giù a toccare il piede che rimane davanti if you're gonna push yourself a bit more touch down in front good ancora dieci secondi nice four three two one and stop go and grab the mat andiamo a prendere il materassino andiamo a prendere il materassino siamo con i gomiti in questa posizione so I have my arms this way ok e voglio tirarmi su con un gomito e poi con l'altro spingendo sulla mano so I'm pushing and ok I'm just checking good 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 continuiamo spingo sul gomito alzo quindi la pressione sul tricipite push nice push again push good push last one and stop very good so remember this too this one's slightly new un movimento un po' nuovo ma siete capaci e andiamo di nuovo con i nostri skaters destra-sinistra incrocio dietro oh sorry my sister had troubles with the connection she's coming back ok pronti 3 2 1 apre incrocio ripetendo 40 seconds skaters up and down left and right cross 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 very good remember to breathe all the time mi raccomando fuori l'aria ancora 10 secondi bene 3 2 1 and stop respiro bene recupero prendo il materassino grab the mat there just a camera a little here e guardate bene la posizione delle braccia in plank mi metto e spingo k k sembra più difficile di quello che è ce la fate sicuramente k spingo sul braccio e raddrizzo il gomito k of course yeah there's a swing left and right for the plank don't worry even if you're down with the knees va bene lo stesso spingo spingo nice 4 more 3 2 and 1 wow well done molto bene very good it's not the easiest one here we go back with our nice two dumbbells quindi prendiamo di nuovo questi due pesetti e lavoriamo di nuovo attenzione this one we've done before you can also use one dumbbell only if you don't want to lift too much pesetti in centro e in mezzo here nice wide legs down and swing I end up above my head quindi i pesi vanno su fino alla testa pronti in squat spingo swing down k quando spingo k sempre contraggo i glutei squeeze the glutes when you come up k and when you're up nice and straight legs k nice a little bit more k very good k nice k good k k a little bit more strong legs strong arms strong everything here k lavoriamo bene con l'addominale spalle glutei braccia and last one and stop andiamo appoggiamo a terra un pesetto ce ne serve solo uno one dumbbell only and i'm going with my palm out all'inizio tengo la mano fuori vado in su sopra la testa vado a prenderlo e torno so i'm changing hand changing it and giving it over to one side and then the other esatto quindi andiamo giù su con uno vado a prenderlo torno ancora in tutti questi movimenti mi raccomando pancia in dentro e stringo keep the neutral position squeeze the glutes belly button in without arching the back we need to protect our back ancora su scendo gli ultimi due su torno and last one up and down very very nice faccio un attimo di pausa siamo già a metà un attimo di pausa riprendo con il swing so i'm holding my dumbbells let up next to each other vicini attaccati gambe bene divaricate nice white legs let's go swing squat and swing bene giù piano spingo very good i always try to look forward non si guarda giù mi raccomando don't look back stay here with your chest guarda in avanti Silvia continuo ancora bene meglio benissimo ancora una volta and stop tengo solo un pesetto let's grab only one e ripetiamo I'm making you do a half around the work kind of exercise pronti quindi giriamo sopra la testa scendo above your head and down it doesn't matter you know if you're moving both arms together one first and then the other l'importante è andare fino su alla testa prendere e cambiare very good sopra e rilascio ancora un pochino up down belly button in down very good down and stop lasciamo quindi avremo la seconda parte dove abbiamo ancora tre esercizi tre coppie di esercizi due senza due con due senza so we continue two without dumbbells two with two without and then we're done ok this one a little bit strong just look andiamo apriamo il squat and one and two and open and one and two quindi su le ginocchia se non volete saltare without the jump up and then two marching ok pronti? 40 secondi apriamo bene apro su bene le ginocchia seguite anche il respiro breathe out giù su su ancora up up down up up very good down gli ultimi 5 secondi adesso last one and stop very nice e facciamo un altro abbastanza fortino diciamo in cardio attenzione then we're gonna slow down but this one is quite strong facciamo due one two down in narrow squat quindi due saltelli e quando chiudo mi chiudo riccio ready together go down up up down 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 giù bene mi chiudo apro apro su e giù su su giù bene benissimo continuo posso anche fare senza il salto posso aprire e andare sulle punte e poi piego little bit more keep going continuiamo last one and stop bene recupero those two are purely casual so we're gonna have a little break 5 seconds respiriamo bene e poi torniamo con le nostre ginocchia in su squat down 3 2 1 let's go open and knee open and up up bene giù bene su le ginocchia ancora vado giù bene ancora nice last 10 seconds down up l'ultimo and stop respiriamo ok per chi mi guarderà su youtube questo sarà l'ultimo circuitino poi ripetete tutto da capo invece noi continuiamo allora doppio and down let's go 3 2 1 open open closing narrow squat down down very good keep it as long as you can give yourself a little break if you need to but keep moving nice ci siamo quasi up up squat up up down last one facciamo l'ultimo and stop very nice very nice next one we're going to go and get our two dumbbells again lavoriamo ancora bene i tricipiti attenzione anche questo è nuovo arms back open and close so it's little posing this way quindi le mani sono in fuori in su e tengo le braccia un pochino piegate ok andiamo 40 secondi open anche qui posizione glutei stretti pancia in dentro ginocchia un po' piegate very very important to keep your squeeze glutes to keep your belly button in and keep your elbow slightly bent good continue so it's a minimum move apriamo chiudiamo apriamo chiudiamo ok già i 3 kg si sentono eh ancora quindi 2-3 kg abbastanza 4 3 2 1 and stop very nice per quest'altro prendiamo il tappetino ah ho continuato non ho fermato il video scusate mi è meglio così vedete anche questo e poi siamo ai 20 minuti di video e lo potete ripetere andiamo giù bene al tappeto attenzione dumbbells chest level partiamo dal petto e andiamo su 1 e giù su e giù e poi doppio quindi singola alzata singola and together 1-1 and together up and down with the glutes let's go su un braccio sull'altro insieme keep going 1 2 and together and up and down with your glutes ok very good qui se volete esagerare potete prendere un 3-4 kg ancora and push non vi preoccupate che non vi si aumenta la massa muscolare ancora e su keep going up up and up o meglio aumenta ma non va ad essere così grossa e definita da dire oh madonna quella è parastrata e ancora l'ultimi due su l'ultima ripetizione up for the last time up and again and stop very very nice quindi questi due lavorano molto la parte superiore del corpo li ripetiamo allora dietro guardando in su con i palmi push your palms up and a little pose andiamo in posizione 3 2 1 tengo in dentro la pancia belly button in and squeeze the glutes very nice keep going mi raccomando non esageriamo stiamo lì dietro 5 massimo 10 centimetri di ampiezza aprendo chiudendo yeah I don't want to go too wide ok l'ultimi 4 3 2 1 very good e andiamo con l'ultimo il cappettino con i pesi ok perfect quindi ripetiamo questo ginocchia piegate partiamo con i pesi al petto and let's go up 1 2 together andiamo ancora su bene spingo e su ah no sto sbagliando io su e giù sempre con i glutei up in bridge all the time very good almost there push and there piego poi stendo bene il braccio davanti a me ancora un pochino there there very good up ancora e su bene gli ultimi and last one and stop perfect abbiamo finito per questo e lo potete ripetere per questo